La popolazione detenuta è sempre più complessa ed è eterogenea. Spesso le tensioni che si registrano nelle sezioni, dovute proprio a questa diversità di etimie, di soggetti di paesi diversi che devono necessariamente e corattivamente convivere, trovano come punto notale, terminale proprio l'agente della sezione. Per quanto riguarda la popolazione detenuta, attualmente sono presenti 264 ristretti del circuito di media sicurezza, circa i due terzi sono cittadini stranieri. Per coloro che intendono parteciparvi sono previsti corsi scolastici e professionali, come il corso muratore, mosaico, meditazione, lettura guidata, la scuola elementare e la scuola media. Concludo esortando a tutto il personale del corpo a mantenere vivo l'impegno nello svolgimento delle proprie funzioni al fine di ottenere sempre i migliori risultati nel raggiungimento degli obiettivi legati al bene collettivo. Enorme si eleva. Grazie